A proposito, come procede il tuo piano? Funziona? Non per merito tuo, aspetta domani quando butterò il lamo. I pesciolini abboccheranno e noi riavremo i nostri dollaroni. Lo spero, così chiuderò la faccenda. Prima scomparirei dalla mia vita e meglio... Ma sì, bene, bella gratitudine. Spiegami perché dovrei esserti grafico. Per quello che sto facendo, ecco perché. Bene, ma solo al lavoro finito. Grazie. Beh, almeno hai buon gusto in fatto di donne. Valerie ha tenuto Kevin in pugno tutta la serata. Oh, grazie, Jonesy. È stato molto più facile del previsto. Non abbiamo ancora parlato della sistemazione per dormire. Sei, io ho un comodo letto a due piazze nella mia bellissima subito. Beh, cerca di non sentirti troppo solo perché lei dormirà con me nell'alloggio dei domestici. Eh, chiedere non costa niente.